Ragà, ciao, guarda, finalmente ce l'ho fatta, ho conosciuto, le onore a Manni Erano tipo mesi che doveva avvenire questa conoscenza Sì, veramente, veramente, proprio, raga, è adorabile Raga, dal vivo Lucia è tipo dolcissima, io non me l'aspettavo E poi chiacchierà una cifra, infatti io adoro Sono la corroga Eh, sì, però è una cosa positiva, perché di solito stanno tipo tutte così Non sanno cosa dire E tipo io non so, cioè, magari sto antipati, eh, quindi rimango pure io sul tipo No, in venti minuti io racconto tutta la mia vita, oddio, che figura Ma no, non è vero, è simpaticissima e poi, poverina, ho avuto una vita che, cioè, io al posto suo proprio Non fa niente, è l'amore che mi sorregge Eh, sì, adoro, lei è super positiva, infatti E che devo fare? Devo piagnere? Ho conosciuto Leonora Manni, raga, ma mi rendete conto? Che culo, eh No, sì, mi raccomando, seguitela e andate nel suo canale Su Instagram pure Leonora Manni Ma sì, fammela un po' di pubblicità Certo che te l'ho fatta, solo che io ho bisogno di pubblicità da te, sincerità, non tu da me Vabbè Dettagli Dettagli Ciao cari